Che cosa è accaduto questa mattina? Allora, questa mattina ho telefonato al CUP per prenotare una mammografia e mi hanno detto che fino al 2017 non c'è nessun, non c'è posto, non c'è posto. Poi dopo ha guardato meglio e ha trovato un posto di una signora che si era ritirata per gennaio del 2016. Ma io dico che è una cosa pazzesca proprio, perché va bene. Poi chiamo per farla a pagamento, affanno a pagamento? Non la fanno, la fanno a Pesaro e vabbè posso andare a pagamento. Però io dico un povero disgraziato che non c'ha una lira perché costa 98 euro, come fa a aspettare fino al 2017 se ha bisogno? Cioè è una cosa che è proprio pazzesca, non è possibile, io non capisco perché in tre ospedali non ci sia posto fino al 2017 per un poveretto che non c'ha una lira, questo volevo dire.